Il potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadino prevede un notevole incremento delle telecamere che passano dalle 43 esistenti brandeggianti a oltre 160 fisse. Il numero delle postazioni di ripresa dunque quadruplica. Dunque, signor Sindaco, fra tre mesi la città di Sanremo sarà super sorvegliata. Sì, finalmente domani partono i miei lavori, il lavoro delle telecamere siamo arrivati a compimento abbiamo rifatto il progetto grazie all'ingegnere proprio elettronico specializzato in questo. C'è stato il bando, si è giudicato il bando in un'azienda di Bergamo che inizierà i lavori domani e entro il 20 luglio saranno completati. Dunque Sanremo avrà sicuramente più postazioni, perché ci sono previste 11 postazioni in più ma sicuramente ci sono circa 190 telecamere in più presenti su Sanremo che copriranno tutto il raggio delle varie zone, quelle che le Forze dell'Ordine hanno sottolineato che ci hanno portato attenzione, quelle un pochino più calde. Dunque è un bel lavoro e sicuramente un'attenzione maggiore. Su questo voglio anche ricordare comunque gli investimenti fatti fino ad oggi per l'illuminazione pubblica. Si sono inclusi adesso i lavori su Verezzo, è una strada che era più di 30 anni che aspettava la luce, a San Pietro, la zona dei Tre Ponti, in Corso a Mazzini, anche questo è un deterente che è legato alla sicurezza stradale. Grande tecnologia per le telecamere che consentiranno anche la lettura delle targhe. Sì, finalmente è arrivato il risultato tanto sperato, ci sono state veramente tante riunioni e oggi c'è stato l'affidamento. Sicuramente è un obiettivo che l'amministrazione aveva preso in carico, oggi sapere che a Sanremo nell'arco di 100 giorni avremo un sistema di videosurveglianza tecnologico sicuramente sarà apprezzato molto da tutti i cittadini, ma soprattutto avremo anche dei nuovi siti e avremo nei varchi della nostra città la rilevazione di telecamere per la lettura targa nei due sensi di marcia. Ritengo un risultato veramente importante, ma soprattutto per le nostre forze dell'ordine che oggi già in carenza di organico devono avere la tecnologia almeno dalla loro parte. Per la maggior parte dei siti è previsto un raddoppio, ovvero due telecamere sistemate in abbinamento per permettere una visione a 360 gradi, un sistema che potrà essere vincente per la lotta alla criminalità. Sicuramente in questa conferenza stampa abbiamo presentato alcuni interventi di illuminazione della città e un piano per l'ampliamento e il miglioramento dell'impianto del sistema di telecamere. Io credo che una città più illuminata sia più sicura e con più telecamere sia ancora più sicura. Telecamere anche in zona del porto di Sanremo, è così? Certamente questo è un punto importante da sottolineare, il discorso che sulla diga foranea finalmente vengono montate due telecamere che vanno ad aggiungersi alle telecamere che poi saranno sussistenti dalla Capitaneria di Porto, quindi si presume che tutta la zona portuale a questo punto sia ben sorvegliata e la Capitaneria di Porto possa intervenire in maniera efficace per sanzionare eventuali abusi. Grazie a tutti.